aspetta aspetta che adesso diamo ancora lì queste opinioni che si fa bello sorridente gaudio anche tu paolino si cosa bisogna aggiungere la gente poi ci attacca perché vi vinci che noi oggi mancherebbe vincente sono quattro anni c'è gente che vuole scrivere sui suoi social personali ciò che suona volevo tracciare hai perso 3 a 0 con l'inno a questo commento guarderlo era l'unico che stiasse di evitare ma questo è un altro discorso questo è un altro discorso avete perso 3 a 0 con l'inno a segnare i calci però non la sento parlando di campionato quando ti fa comodo parli solo del campionato ti ti hanno ragione in parte però mi sembra sparita la partita d'andata di torino che fine ha fatto l'andata ma ho capito 3 a 0 4 a 0 mancato di 17 partita che poi è stato interrotto 3 a 0 con l'inter non avete perso con l'inter certo è ancora più bello visto che le statistiche è ancora più bello bisogna però fare l'esame da tutto l'altro no perché prendo tre pere da lì no perché tre pere da uno che mi tira fuori ancora le sette Champions League con le altre lascio 3 a 0 con lì 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 e quando hai un fai ditatta per l'inter non la conteggiava perché se parli di Coppa Italia non ha parlato di derby di Lazio e di l'inter allandata perfetto 1 quando li fa comodo infero teh a 0 da sessore. Sono anni che avrebbero. Quando selezionano le vittorie di fila, le copitaglie sono dietro quella Coppa Italia. Quando perdi, quando perdi parli degli altri. Pallone la tua squadraccia. Imbattuti, imbattuti. Prego tre pere. Tre vittorie in Coppa Italia non le ho mai conteggiate io. Diversamente da te che hai portato delle statistiche. A te manca qualche rotellina. A te manca qualcosa l'educazione. A te manca qualcosa oltre che l'educazione. E con te non parlo più. Non faccio beneficenza. Non faccio beneficenza. Io non sono maleducato con te e non faccio beneficenza con il promeo. Prego tre pere intanto da l'Inter. Impara a parlare. Coppa Italia. Coppa Italia abbiamo riattamente andato. Dillo. Calitone ha preso tre pere. Ma non parlavano di Coppa Italia. Noi c'è. Ma cosa c'entra? Calitone ha preso tre pere. Ma cosa c'entra? Che l'ha dicendo. Calitone. Palla della Cipsик. Palla della Cipsik. Palma della Cipsik. Mi ha riattamente andato da lì. E hai dovuto andare a leggere il è quello di buffone perché se no perché io sono un mio tempo perché hai letto l'azzo devi parlare delle statistiche del Milan che sono le notizie hai parlato di buffone sul gazzaro del Milan io hai parlato di buffone posso parlare con un di mente così ma non per te parlare di sanzione e rispetto vai a casa pieta non ho bisogno di te licenziato licenziato vai a casa ma non ti arrabbiare non ti arrabbiare non ti arrabbiare ma vai a casa ma non ci sono l'educazione la gente sa giudicare a casa il padre educazione leggiamo qualche messaggio a capire riusciremo a battere il chievo entreremo almeno in Europa League ti chiedono Tiziano?